Dai confini nord del Cilento per allargarsi su Eboli e Battipaglia erano queste le direttrici su cui operava l'organizzazione a delinquere di stampo camorristico finalizzata all'estorsione e all'usura smantellata all'alba di oggi dagli uomini della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Tra Capaccio e Albanella è stato fermato Giovanni Marandino, 77 anni, noto quale esponente di spicco della nuova camorra organizzata negli anni 70 e per aver gestito fino al maggio del 1979 la latitanza del boss Raffaele Cutolo. Nell'operazione sono state sottoposte a fermo per disposizione della DDA altre sei persone accusate di far parte di un clan camorristico di cui Marandino è considerato il capo. Le ipotesi di reato formulate nei riguardi di Marandino e degli altri sei sono associazione mafiosa, usura e distorsione. In sostanza i sette affiliati che sono stati bloccati dai poliziotti con un fermo del PM avrebbero sottoposto imprenditori della zona a ricatti e minacce al fine di ottenere soldi e persino il monopolio nel settore delle onoranze funebri tentando di rilevare un'azienda sotto pressione di usura. L'uomo da cui nasce tutto fu fermato nel dicembre del 2013 a Capaccio ed è un pregiudicato di 60 anni. Il clan secondo gli investigatori si spostava nel Cilento ma operava principalmente nella zona della Piana del Siele ed era attiva anche a Salerno e nell'Agronocerino. Le indagini svolte dalla squadra mobile della questura di Salerno sono cominciate come detto nel dicembre scorso a partire da alcune estorsioni ai danni di imprenditori che per lavorare nella zona tra Eboli e Battipaglia in provincia di Salerno erano costretti a subire ricatti e minacce. Da intercettazioni telefoniche ambientali e pedinamenti gli agenti sono riusciti ad arrestare Ciro Casella sorpreso a Capaccio con un'arma con matricola brasa prima che si recasse assieme ad altri indagati a minacciare un noto imprenditore cilentano. Successivamente nella sua auto a Salerno è stato trovato un ordigno a base di tritolo. Nel corso della notte sono state eseguite anche numerose perquisizioni. I dettagli dell'operazione verranno resi noti a brevissimo.